Due ininteressanti anticipi aprono la dodicesima di turno del campionato di Serie A. Si parte alle 18 con la sfida di Marassi tra Sampdoria e Cesena. I blucerchiati di Mijajlovic in lotta per un posto europeo cercano i tre punti dopo il prezioso pareggio a San Siro contro il Milan, mentre il Cesena, impegnato nella lotta per no retrocedere, deve riscattarsi dopo l'1-0 interno ad opera del Chievo. Alle 20.45 attesa per la sfida allo Juventus Stadium tra Juventus e Lazio. I bianconeri di Allegri, confortati dal successo in Champions League contro il Monaco, che hanno di fatto cancellato la sconfitta del Tardini dello scorso weekend, cercano i punti necessari per mantenere ancora ulteriormente rafforzata la vetta della classifica, ma non sarà facile contro una Lazio che negli ultimi tempi appare in indecisa rimonta.